Ciao a tutti ragazzi, tra qualche giorno finalmente partirà il Giro d'Italia e questa lunga attesa è stata addolcita dallo scontro fortissimo che c'è stato tra Mario Cipollini da una parte e Davide Cassani dall'altra. Io sono cresciuto con entrambi, mi ricordo da ragazzo quando tornavo a casa facevo le corse per vedere Mario Cipollini, per vedere la tappa in linea, lo sprint e sapevo sempre che a parte i rarissimi casi Mario Cipollini avrebbe vinto. Non per niente il record di vittorie a Giro d'Italia è proprio di Mario Cipollini, quindi un campione a tutti gli effetti, poi ha vinto anche il campionato del mondo a Zolder nel 2002, quindi un campione a tutto tondo. Dall'altra invece le telecronache erano spiegate in modo tecnico e dettagliato proprio da Davide Cassani che oltre ad essere un ex ciclista professionista ha avuto anche un passato da telecronista Rai. Oggi Davide Cassani è il CT della Nazionale e quindi probabilmente anche per questo è un po' in difficoltà nel rispondere a tutti questi attacchi che Mario Cipollini gli sta facendo ormai da qualche tempo. Davide Cassani infatti è il CT della Nazionale e riveste un ruolo istituzionale all'interno della Federazione Ciclistica Italiana. E vi assicuro che non è facile fare questo tipo di mestiere e contemporaneamente tenere testa anche a chi ti critica, soprattutto quando chi ti critica è Mario Cipollini. Mario Cipollini è un campione sia dentro il ciclismo che fuori, lo dimostra infatti il largo seguito che Mario Cipollini ha sui social network. Tutta questa polemica su cui non voglio entrare perché ovviamente è una cosa che riguarda loro due e io non sono nessuno per dare ragione a Tizio piuttosto che a Caio quindi mi terrò molto alla larga dall'esprimere i giudizi. Però voglio dire la mia da un punto di vista mediatico. Mario Cipollini infatti incarna ad oggi, ancora oggi, un ciclismo passionale, istintivo. Il ciclismo fatto con il coltello tra i denti. E nelle sue dirette su Instagram, per chi non lo seguisse vi invita a seguirlo, espone un po' qual è la sua idea di ciclismo. Tutti i suoi progetti, in particolare la spinta al settore giovanile e a volte, ultimamente spesso, critica o la federazione o il CT della nazionale per delle scelte tecniche più o meno discutibili, più o meno condivisibili, diciamo così. Però tendenzialmente Mario Cipollini incarna il ciclismo di istinto, il ciclismo di passione, diciamo il ciclismo alla vecchia maniera. E lo fa raccontando la sua visione su Instagram. Una cosa che non molti ciclisti fanno. Mario Cipollini è un leone, è molto coraggioso, lo fa senza filtri e lo fa in un modo nuovo. Non sono molti ciclisti che hanno il tempo, la voglia e la passione di raccontare quello che fanno, ma soprattutto come vedano il movimento ciclistico italiano. Bene, Mario Cipollini lo fa e questo è un fattore di modernità. Così come, a mio avviso, è un fattore di modernità anche la figura di Davide Cassani. Davide Cassani è, diciamo così, il commissario tecnico del 2020. È un'azienda che cammina, collabora con moltissimi brand e su questo, a mio avviso, non c'è niente di male e ha portato tutti questi brand con sé nel momento in cui è diventato il commissario tecnico della nazionale. Diciamo che anche questo è un fattore di modernità rispetto ai vecchi commissari tecnici della nazionale di ciclismo. Insomma, ragazzi, Mario Cipollini e Davide Cassani stanno interpretando il ciclismo nel 2020 in due modi molto differenti. Ma non è detto che questi due modi non possono condividere tra di loro. Da una parte abbiamo Mario Cipollini che rappresenta un ciclismo passionale, istintivo, con il coltello tra i denti. Dall'altro invece abbiamo Davide Cassani che rappresenta, diciamo così, un modo nuovo di intraprendere il ciclismo, anche dentro ruoli istituzionali, con molte collaborazioni e nelle aziende che di sicuro non fanno male al ciclismo. Insomma, fringuelli, staremo a vedere come questa storia fra loro due finirà e chissà che da questi due spunti, da questi due modelli incarnati da Cipollini e Cassani, non nasca davvero un nuovo filone che prenda il meglio tra queste due visioni. Insisteremo a vedere. Fatemi sapere che cosa ne pensate scrivendolo qua sotto nei commenti. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buona giornata alla prossima. Ciao!